Due giovani sposi vanno in viaggio di nozzi e l'agenzia gli prenota un bellissimo albergo con ristorante stellato ed una bellissima piscina. Arrivati all'albergo nel tardo pomeriggio decidono prima di fare una bella nuotata in piscina, prima di andare a cena al ristorante. Scesi in piscina vedono che non c'è nessuno, essendo soli decidono di fare il bagno senza niente. Così tolgono tutto e fanno un bellissimo bagno rilassante da innamorati per festeggiare la loro luna di miele. Dopodiché salgono in camera e si preparano per andare a cena e scendono al ristorante che è pieno con tutti gli ospiti dell'albergo. Notano subito che una parete del ristorante si affaccia sulla vasca di un bellissimo acquario gigante. Durante la cena notano però che nell'acquario non ci sono pesci. Così chiedono al cameriere scusi ma l'acquario non ha pesci? Ed il cameriere? Quello non è l'acquario ma la piscina dell'albergo.